Giustizia, dialogo, unità, ma anche eccellenze imprenditoriali, scambi commerciali e il gioco del calcio, capace di riconciliare un intero popolo. Questi temi è la centro dell'incontro tra Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, e una delegazione della Nelson Mandela Foundation, a Torino per la prima mondiale di Madiba, opera sulla figura dell'ex presidente sudafricano, inserita nel cartellone del Moncaglieri Jazz Festival. Con la fondazione abbiamo parlato di questo, delle speranze di pace che abbiamo oggi, non solo per l'Europa, ma per tutto il mondo. Quando Nelson Mandela divenne presidente del Sudafrica, piuttosto che processare tutti quelli che avevano fatto violenza, stabilirono un modo che è inconcepibile in questo momento, che si chiamò il Tribunale del Perdono. Chi aveva commesso un reato, se assumeva la responsabilità della colpa, veniva perdonato. È stato un gesto di grande valore, uno dei gesti che ha reso Nelson Mandela uno degli uomini più straordinari del nostro tempo e della nostra umanità. A guidare la delegazione in Dileka Mandela, nipote di Nelson e figlia di Tembechile, primo genito di Madiba, morto a 24 anni in un incidente stradale. Dileka, attivista da sempre impegnata nella lotta alla povertà e per la difesa dei diritti delle donne, nel 2014 ha creato la Tembechile Mandela Foundation, che ha avviato programmi nel settore della sanità, dell'istruzione e dell'avviamento professionale dei più giovani. E proprio il saper fare del settore manifatturiero piemontese è uno degli aspetti che più ha colpito la delegazione. Sono stata molto incoraggiata dove c'è una possibilità di un gemellaggio con il Sudafrica, perché nel settore specialmente della mobilità, ieri sono stata all'Ital Design, dove mi ha fatto molto impressione, sono stata molto sorpresa dal livello della tecnologia, specialmente nelle nuove macchine, e nel nuovo settore della mobilità e dove sta andando. A me piacerebbe riportare quello in Sudafrica per aiutare il nostro popolo nel settore della mobilità.